Il palazzo è stato donato a una casa famiglia. E che roba è? Una casa e una famiglia. Lui è Chukwu. My pleasure. Che succede? Pare ci sia l'Isis a San Giovanni. Lei è Ivana. Il palazzo Corbucci sembra infestato e c'è un africano che gira con un borsone nuovo. E poi c'è Kevin. Però vi siete già conosciuti, no? Giulia ha visto Benedetta insieme al ragazzo della casa famiglia. In un bagno. A volte vorrei essere dove nessuno mi conosce e dove nessuno si aspetta qualcosa da me. E allora lascia stare gli uomini delle altre? Da quanto siamo insieme noi? Testa sito. Possiamo andare in un posto dove possiamo fare quello che ci pare. Kevin è un bravo ragazzo. È un delinquente. È uno che sbaglierà. E che sbaglierà ancora. E dipende dalle possibilità che gli dico. E gliene deve dare mia figlia. Non voglio che mia figlia si accompagna un carcerato. Sta rincuorando il fratello. Dice che una volta gli è andato dell'anticappato. Invece sì, sì. Ammetto di aver sottovalutato il problema. Ah sì, sì. C'è qualcosa di più grave. Perché io parto piano. E poi c'ho la progressione, capito? La messa è finita. Andate in pace. La messa è finita.